Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, i titoli principali dell'edizione di oggi. Era stato accusato di abusi sessuali dalla figlia dopo un lungo processo un padre è stato assolto dal tribunale di Rimini. Recuperato il carico di patate cadute dal camion che ieri si è ribaltato alla rotatoria di San Lorenzo a Riccione, ma buona parte del carico era già stato portato via. Parte la nuova stagione di fuori dall'aula, nella prima puntata si parla di commercio in crisi, l'esperienza di un emporio riminese bottega storica. Presentata alla camera oggi la ventisettesima edizione di Ecomondo, in programma a novembre alla Fiera di Rimini, attese centomila presenti. Una ragazzina aveva denunciato i presunti abusi sessuali subiti dal padre e per quelle accuse l'uomo ha dovuto affrontare un processo che però si è concluso con una soluzione. Mentre i genitori erano in fase di separazione, la figlia all'epoca minorenne avrebbe subito gli abusi del padre all'interno del bilocale dove si era temporaneamente trasferito. In particolare la ragazzina aveva raccontato prima agli assistenti sociali, poi alla madre, che durante gli incontri concordati con il genitore lui la costringeva a fare la doccia e mentre era in bagno insieme a lei a mangiare una banana come spuntino. Infine l'uomo si spogliava e si faceva la doccia insieme alla figlia, accuse che durante il processo l'allora minorenne aveva ingigantito parlando anche di strusciamenti e toccamenti. Dal canto suo il genitore, un 55enne del riminese difeso dall'avvocato Stefano Caroli, ha sempre negato di aver commesso gesti simili. Ai giudici del tribunale collegiale di Rimini ha parlato di fatti inventati e raccontato della conflittuale separazione dalla moglie, che a sua detta lo verrebbe messo in cattiva luce con i due figli. L'uomo ha anche ricordato le plurime denunce che nel corso degli anni la donna aveva presentato nei suoi confronti e che avevano dato origine a dei procedimenti penali per maltrattamenti in famiglia, stalking e omesso versamento degli assegni di mantenimento, tutti conclusisi puntualmente con sentenza di assoluzione. A favore del 55enne, anche la relazione del perito nominato dal tribunale nell'ambito della causa civile di separazione dei coniugi, che aveva definito inattendibile l'ostilità dei figli nei confronti del padre e aveva ipotizzato una contaminazione di idee da parte della madre. Per tutti questi elementi, il tribunale collegiale di Rimini ha assolto l'uomo perché il fatto non sussiste, seppur con formula dubitativa. Dopo il recupero del mezzo pesante ribaltato su un fianco, avvenuto ieri subito dopo l'incidente, oggi alla rotatoria di San Lorenzo a Riccione sono state anche recuperate le casse di patate che erano cadute, ma il grosso del carico non è tornato nelle mani dell'azienda. Il camion inviato sul posto per recuperare le casse di patate cadute nella rotatoria di San Lorenzo è arrivato intorno alle 15. Ma dei circa 300 quintali di patate del carico rimasto a terra dopo il ribaltamento del camion che le trasportava avvenuto martedì pomeriggio ne era già stato portato via il 70%. In tanti infatti non hanno resistito alla tentazione di portarsi a casa un po' di quelle patate rimaste sulla pubblica via con un viavai incessante per tutta la giornata fino all'arrivo dei legittimi proprietari. Per permettere il recupero delle casse la polizia locale ha chiuso il tratto dell'Adriatica tra la rotatoria di San Lorenzo e l'incrocio con Viale Romagna con inevitabili ripercussioni sul traffico. L'operazione si è conclusa dopo oltre tre ore. Il conducente del tir era stato portato in edil soccorso all'ospedale Bufalini di Cesena con pesanti traumi ma fuori pericolo. Il camion ribaltato era già stato recuperato martedì pomeriggio con un'altra complessa operazione. Parliamo di meteo. La settimana in Emilia Romagna sarà caratterizzata da precipitazioni che da questa sera dovrebbero interessare anche la Romagna. Domani le precipitazioni più intense sono attese in Emilia dove l'allerta per temporali è arancione e gialla invece in provincia di Rimini. Anche nei prossimi giorni il cielo sarà coperto con precipitazioni sparse. Le temperature restano comunque ancora sopra le medie stagionali. Riparte l'appuntamento del mercoledì con la nostra trasmissione fuori dall'aula. Nella prima puntata della nuova stagione, questa sera alle 21, obiettivo puntato sulla crisi del commercio. In studio Gian Maria Zanzini, presidente regionale di Federmoda, Roberta Pontrandolfo di Amariccione e l'imprenditore Massimiliano Alvisi, ideatore del progetto Shop Survive. Ci saranno anche le testimonianze di alcune attività storiche del centro di Rimini. Vi proponiamo quella dell'Emporio Brigliadori, una delle botteghe storiche cittadine. Gli anni, anzi i decenni, passano ma la magia dei giocattoli non tramonta. Difficile non percepirla tra le corsie stipate dell'Emporio Brigliadori di Rimini. L'attività, ora bottega storica, fin dagli anni 50 ha visto passare generazioni di bambini, poi diventati genitori e nonni. Ma restare al passo con i cambiamenti dei gusti e resistere alla crisi spietata del commercio non è semplice. Lo sa bene Roberto che insieme alla sorella Patrizia, mamma Luciana, continua a portare avanti l'attività creata dal babbo Giorgio. Parola d'ordine, passione. Sono qui dagli anni 60, non proprio qui perché prima mio marito aveva aperto in via 4 novembre, davanti al Duomo e ho cominciato a lavorare da lui, ero una ragazzina e questo lavoro mi ha appassionato, poi dopo naturalmente ci siamo fidanzati e sposati. Però quello che mi rimane, nonostante la mia età, è proprio la passione di questo lavoro. Forse perché sono tanti anni che lo faccio, poi anche ci sono i miei figli che ci lavorano. Li aiuto perché praticamente in questo momento non ci possiamo permettere personale. Fondamentalmente mia madre è la, diciamo, colonna portante della situazione. Il mio lavoro qui è iniziato sin da bambino, saltando in giro per gli scaffali, tirando fuori i giochi, i giocattoli, mettendomi a giocare anche all'interno del negozio. Questo me lo sono portato anche adesso, adesso è aumentata l'età, ma diciamo che la situazione è la stessa. Le difficoltà non sono nate da un giorno all'altro, ma le cause si sono accumulate nel corso degli anni, dagli ormai consueti problemi di accessibilità ai parcheggi fino alla concorrenza dei colossi online. Si cerca di avere un impatto sul territorio, come abbiamo sempre fatto, cercando di consigliare i clienti, dando al meglio i loro prodotti, rispetto a prendere così a caso da un carrello cose magari che non sono quelle che ti aspetti. Altra cosa, anche noi ci siamo spostati sull'online, ma sull'online specifico, cioè di nicchia. Cercare di vendere, per dire, un lego, quando abbiamo una società nazionale, internazionale che vende direttamente i propri prodotti ai prezzi che praticamente vende a noi e li vende al pubblico, diciamo che non c'è possibilità di resistere, insomma. È praticamente come correre in bicicletta con un'auto di Formula 1. L'economia green italiana e tante realtà internazionali sono pronte a incontrarsi a Ecomondo. All'evento, in programma in Fiera Rimini, dal 5 all'8 novembre, sono attese centomila presenze. Oggi a Roma, alla Camera dei Deputati, è stata presentata la ventisettesima edizione. Con un tasso di riciclo del 72% e un riutilizzo di materie del 18,7, valori entrambi superiori alle medie europee, l'Italia si conferma leader nell'economia circolare. Delle nuove sfide della green economy è pronta ad occuparsi la nuova edizione, la ventisettesima di Ecomondo, in programma alla Fiera di Rimini dal 5 all'8 novembre, presentata a Roma alla Camera dei Deputati. Tra i relatori, anche il ministro dell'Ambiente, Picchetto Frattine, che ha definito la Kermesse un evento immancabile per chi crede in una transizione giusta e sostenibile, in un mondo in cui la richiesta di energia è in continuo aumento. Alcuni numeri di Ecomondo 2024. 1622 brand espositori, di cui il 16% esteri, oltre 100 paesi, 73 associazioni di settore, 221 convegni in quattro giorni, 100.000 le presenze attese. Ci sarà un focus sull'Africa in collaborazione con il Piano Mattei, a cui hanno già aderito 108 delegati. Tra i momenti chiave della manifestazione, gli stati generali della green economy. Un'edizione che si preannuncia da tutta esaurito, per l'occasione in fiera saranno inaugurati due nuovi padiglioni. Lo sguardo, hanno spiegato i promotori, sarà dallo spazio, con i big data raccolti dai satelliti, alla terra. Si parlerà di cambiamento climatico, biocittà, mari e oceani da preservare dall'inquinamento. Attenzione particolare anche al distretto del design e a quanto l'industria del settore moda stia facendo per dare vita a cicli produttivi più sostenibili. Al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico si è riunita la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna in un convegno dal titolo Il Valore della Prossimità, occasione per un bilancio generale del gruppo da 148.000 soci e una riflessione sulle prospettive future. Si è tenuto al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico il convegno della Federazione BCC dell'Emilia Romagna dal titolo Il Valore della Prossimità, con oltre 160 persone presenti e la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico. L'evento ha acceso i riflettori sugli impatti della cooperazione di credito in Emilia Romagna nell'ultimo quinquennio, dalla nascita dei gruppi bancari cooperativi a oggi e sulle sfide che le BCC si troveranno ad affrontare nell'immediato futuro, a partire dalla profonda innovazione che porterà con sé l'arrivo dell'euro digitale. Secondo i dati dello studio di Federcasse e della federazione regionale, l'istituto bancario conta 346 sportelli in Emilia Romagna, in crescita del 3,1% nell'ultimo quinquennio, dati che vedono le BCC operare in 162 comuni e in 13 dei quali come unica presenza bancaria. Dal 2019 al 2023 sono stati inoltre erogati 27,7 milioni di euro sotto forma di donazioni e sponsorizzazioni per iniziative relative alla cultura, alla salute, allo sport e alla promozione del territorio, a cui si aggiungono i 5 milioni e mezzo donati ai comuni colpiti dall'alluvione nel 2023. Praticamente l'80% del risparmio raccolto viene impiegato nei territori di competenza sotto forma di aiuto a famiglie e imprese. È un valore aggiunto, è un valore aggiunto alla prossimità, ma assieme a quello che è lo sviluppo tecnologico, la prossimità ci permette di mantenere la nostra relazione, incontrarci con quelli che sono i nostri clienti e soci per vedere di risolvere le problematiche che sono connesse ai vari territori. Io direi che nell'Emilia Romagna c'è questa particolare peculiarità che è costituita dai ripetuti nubifragi che hanno creato in alcuni territori delle difficoltà non nuove purtroppo perché nel corso del tempo ne abbiamo sperimentate altre. Posso dire che le banche dell'Emilia Romagna, quelle di credito cooperativo, si stanno distinguendo per la tempestività e l'efficacia degli interventi. Sono messi a disposizione plafond rilevanti e a condizioni sicuramente di favore per consentire il ripristino delle condizioni. Per lo sport questa sera torna in campo Riviera Banca Basket Rimini che da domenica scorsa è capolista solitaria del suo girone di A2 e l'unica squadra imbattuta dopo quattro giornate. I ragazzi di Dell'Agnello scendono in campo alle 20.30 sul parchè di Orvi Nuovi. Ieri sera il dirigente di RBR Matteo Panferi ha commentato a Calcio.basket l'avvio di stagione dei Biancorossi. Sinceramente il 4 su 4 non me l'aspettavo, non ce l'aspettavamo, penso quasi nessuno. Con un calendario così poi va detto. La vittoria di Udine arrivando da una preparazione non buona ma non al meglio perché abbiamo unito la squadra credo il sabato prima di Udine o il venerdì, sono allenati veramente tutti insieme e quindi non ce l'aspettavamo. Poi questa squadra secondo me ha una caratteristica di essere molto solida mentalmente, questa solidità è figlia sicuramente dell'esperienza di tutti i giocatori che abbiamo ma è figlia anche della mentalità e degli allenamenti di Sandorin Agnello che cura i particolari ma esprime anche molta continuità a livello di allenamento difensivo, a livello di particolarità nell'eseguire i giochi soprattutto in casi punto a punto di parità. Però a parte le cose tecniche che avete detto tutti bene secondo me ripeto anche domenica che secondo me tra le 4 è stata forse la partita più difficile perché non ci dimentichiamo che siamo andati sotto due volte di 10 quindi ritornare da un meno 10 non è facile e siamo riusciti grazie all'esperienza e soprattutto questa mentalità solida. Ieri sera ha preso via anche la nuova stagione di Icaro Volley, la trasmissione di approfondimento dedicata alla pallavolo romagnola tra gli ospiti il presidente della OMAG MT San Giovanni Marignano Stefano Manconi che ha fissato gli obiettivi del club per la nuova stagione. Ovviamente i playoff restano un obiettivo e anche qualcosa di più no? Ma diciamo che quest'anno siamo capitati in un girone molto complicato in partenza e sulla carta perché siamo molte squadre che sono tanti anni che sono in A2 sempre nella fascia alta della classifica queste si sono aggiunte poi o delle nobili un po' decadute tipo Casal Maggiore o anche delle squadre e delle società come ad esempio Costa Volpino che erano retrocesse ma hanno riacquistato il titolo, rifondato la squadra con atlete importanti. Quindi io come sempre dico alle ragazze non metto mai degli obiettivi stringenti perché poi il raggiungimento degli obiettivi dipende anche sempre da tanti fattori molti dei quali difficilmente calcolabili all'inizio della stagione. Per le squadre che penso che abbiamo l'obiettivo chiaramente abbastanza imperativo è quello di arrivare nelle prime cinque ed entrare in pool promozione. Poi vedremo con quanti punti entreremo e come starà la squadra. Parte questa sera alle 22 dopo Fuori dall'Aula su Icaro TV la nuova stagione di Benvenuto Ivan Drago, il contenitore curato e condotto da Stefano Rossini con ospiti, rubriche, musica dal vivo ed aggressioni varie. Nella prima puntata in studio Gabriele Guerra e Alessandro Pagliarani dell'Associazione Rissuona Rimini con l'accompagnamento musicale di The Ove. Siamo in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it e la nostra piattaforma video Icaro Play. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione e l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione e l'agurio di una buona serata.